Cominciamo dall'ariete. Il vostro temperamento è combattivo e leale. Oggi sarete messi davanti a una prova da superare dove l'impulso e le emozioni dovranno essere messe da parte. Toro, considererete casuale un avvenimento importante, ma non sarà così. Se riuscirete a guardare oltre il vostro naso e focalizzare con la mente un contatto avvenuto qualche giorno fa, vi una spiegazione logica e reale. Gemelli, basta con le storie allegre, mordi e fuggi, anche voi sentite l'esigenza di cambiare atteggiamento. State vivendo una promettente relazione alla quale non avete ancora prestato l'importanza che merita. Cancro, troppi pensieri, impegni, stress e niente a posto. La vostra casa non sarà la culla dell'amore o l'alcova nella quale vorrete perdervi, ma è il punto d'incontro della vostra coppia. Leone, maneggiare con cura. Ecco cosa oggi dovrete fare. Maneggiare con cura gli oggetti di valore, un soprammobile di casa, un pezzo d'arte prezioso o semplicemente un oggetto a cui siete legati affettivamente. Vergine, un favore da ricambiare. Vi farete in quattro per dimostrare la vostra gratitudine a chi vi ha aiutato a superare un momento difficile. Bilancia, non siate troppo rigidi. È un atteggiamento che non vi si addice. Voi risolvete tutto con la diplomazia e chiudersi a riccio non servirà a risolvere il problema. Sarà una tattica che vorrete a tutti i costi adottare. Scorpione, permesso ma non concesso. Questo sarà il vostro motto per quelle situazioni che non vi convincono ancora fino in fondo. Un atteggiamento che adotterete un po' per protezione e un po' perché a qualcuno piacerà e vi copierà. Sagittario, se vi prendete un impegno, lo portate sempre a compimento fino in fondo qualsiasi cosa accada. La vostra risolutezza sarà caparbia nel portarlo avanti. Capricorno, sarete messi davanti a un fatto compiuto. Affrontatelo come di solito fate, senza dare segnali di cedimento o di defiance. Rispettate una persona più grande, aiutatela in una sua scelta. Acquario, avrete voglia di rompere gli argini o di venire meno agli impegni della giornata. Avete resistito parecchio nel trattenervi. Oggi sarà un giorno speciale che vorrete prendervi con libertà assoluta, alla vostra vecchia maniera. Pesci, amicizie importanti, famose, che porteranno anche a voi il successo che meritate. Chi sta per ultimare un progetto importante ed è a un passo dall'obiettivo, dovrà sfruttare un caro amico disponibile e prestigioso per quella spintarella indispensabile che ci vuole a raggiungere quello che vi spetta. Grazie. 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 Grazie.